Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Tra i titoli che la tradizione della Chiesa attribuisce alla Beata Vergine Maria c'è quello di Addolorata. Tutta la vita di Maria fu un continuo dolore che ebbe il suo culmine nella passione del suo Divin Figlio che secondo Sant'Omaso d'Aquino fu il massimo di tutti i dolori. La devozione all'Addolorata nasce prima ancora che dalla teologia dal sensus fide dei semplici fedeli nella contemplazione di Maria Santissima sul Calvario quando offrì liberamente il proprio figlio e se stessa in sacrificio al Padre. Due sono le feste liturgiche che richiamano questa devozione la festa dei Sette Dolori del Venerdì di Passione e la festa della Beata Vergine Maria Addolorata del 15 settembre. La Madonna Addolorata è presente assieme a quella del Carmelo nel messaggio di Fatima. Il 13 settembre 1917 la Madonna disse ai tre pastorelli «Continuate a recitare il rosario per ottenere la fine della guerra». In ottobre verranno anche Nostro Signore, la Madonna Addolorata, e quella del Carmelo, San Giuseppe con Gesù Bambino, per benedire il mondo. Il 13 ottobre 1917 alla Cora Cova d'Airia, mentre la moltitudine della folla assisteva al miracolo del sole, si presentarono agli occhi dei veggenti tre quadri, il primo simboleggiante misteri gaudiosi del rosario, poi quelli dolorosi e infine quelli gloriosi. Soltanto Lucia vide i tre quadri, Francesco e Giacinta videro soltanto il primo. Apparvero prima accanto al sole San Giuseppe con Gesù Bambino e la Madonna del rosario, era la Sacra Famiglia, poi seguì la visione della Madonna Addolorata e di Nostro Signore afflitto dal dolore sulla via del Calvario. Nostro Signore fece un segno di croce per benedire il popolo. Finalmente apparve in una visione gloriosa la Madonna del Carmelo, incoronata regina del cielo e della terra, con in braccio Gesù Bambino. La Madonna Addolorata è quella che soffre nell'ora della passione. La Madonna del Carmelo è quella che triunfa nell'ora della risurrezione. Nella drammatica situazione che oggi vive il mondo, la Madonna va venerata soprattutto come addolorata nell'attesa di venerarla quanto prima, come Madonna del Carmelo nell'ora del trionfo del suo cuore immacolato. La causa principale dei dolori della Madonna è rappresentata dai peccati del mondo che sottraggono gloria a Dio e portano tante anime all'infelicità eterna. Per questo la Madonna mostra ai fanciulli di Fatima l'orrore dell'inferno e affida loro un messaggio di salvezza per la Chiesa e l'umanità intera. E per questo Lucia ricorda che davanti alla palma della mano destra della Vergine si trovava un cuore circondato di spine che vi sembravano conficcate. comprendemmo che quello era il cuore immacolato di Maria oltraggiato dai peccati dell'umanità che chiedeva riparazione. La Madonna, dopo Fatima, manifestò il suo dolore a Siracusa dove lacrimò nel 1953. Il Papa, allora regnante, Pio XII, così commentò il fatto. Senza dubbio Maria è in cielo, eternamente felice e non soffre né dolore né mestizia. Ma ella non vi rimane insensibile che anzi nutre sempre amore e pietà per il misero genere umano cui fu data per madre allorché dolorosa e lacrimante sostava ai piedi della croce ove era affisso il figliuolo. Comprenderanno gli uomini l'arcano linguaggio di quelle lacrime? O le lacrime di Maria erano sul Golgotha lacrime di compatimento per il suo Gesù e di tristezza per i peccati del mondo. Piange ella ancora per le rinnovate piaghe prodotte nel corpo mistico di Gesù o piange per tanti figli nei quali l'errore e la colpa hanno spento la vita della grazia e che gravemente offendono la maestà divina? O sono lacrime di attesa per il ritardato ritorno di altri suoi figli un di fedeli ed ora trascinati da falsi miraggi fra le schiere dei nemici di Dio? Fin qui Pio XII e allora in che senso potremmo chiederci se la Madonna che è in cielo dove è eternamente felice piange ancora per tentare di comprendere questo mistero dobbiamo ricordare che Dio vede le cose che passano nel tempo alla luce dell'eternità per Lui non c'è passato presente e futuro c'è solo l'istante dell'eternità che è un eterno presente noi non eravamo nati nel momento storico in cui si svolse la passione noi non esistevamo ma Dio ci conosceva in tutta la concretezza della nostra realtà perché nella scienza di Dio non vi è domani ma tutto il passato il presente il futuro è perfettamente presente questa conoscenza Dio l'aveva partecipata anche alla Madonna nostro Signore sul Calvario soffriva non solo per i peccati del suo tempo ma anche per i nostri peccati e quelli del nostro tempo e la Madonna che pur essendo una semplice creatura partecipava della luce divina soffriva anche ella per i nostri peccati di oggi era contemporanea ai nostri peccati in questo senso possiamo dire che soffre ancora anche se ora è immensamente felice ma quell'oggi e quello ieri non esistono per chi come lei vive nell'eternità cioè in un momento presente che è fuori del tempo noi invece semplici creature non viviamo nell'eternità ma siamo immersi nel fluire del tempo e della storia e riconduciamo tutto a un passato che non c'è più e a un futuro che non c'è ancora però ogni istante che passa nel tempo nel tempo muore ma nel suo merito o nel suo demerito si incide nel libro della vita eterna ed è in quell'istante situato nel tempo che è quello in cui hic et nunc oggi e ora viviamo che noi possiamo partecipare a nostra volta al gaudio e al dolore di Gesù e di Maria la conoscenza della passione supera lo spazio e il tempo come la celebrazione della messa che è la ripresentazione reale in maniera incruenta del santo sacrificio del calvario contemplando la passione che è avvenuta duemila anni fa possiamo renderla presente a noi e la rendiamo tanto più presente quanto più la facciamo nostra compenetrandoci nei dolori di Gesù e di Maria che non sono solo quelli sofferti sul calvario ma anche quelli del nostro tempo o meglio sul calvario Gesù e Maria soffrirono per l'apostasia del nostro tempo e pregarono perché a questa apostasia seguisse un immenso trionfo che per loro è già presente mentre per noi che siamo immersi nel tempo appartiene al futuro il messaggio di Fatima ci svela questo futuro ed è per questo che fa parte così intimamente della nostra vita spirituale il cuore immacolato di Maria è un cuore addolorato un cuore trafitto dalla spada del dolore ma è un cuore che infallibilmente trionferà oggi c'è Radio Roma Libera punto org la prima emittente di podcast cattolici in Italia per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org